Salve a tutte ragazze, mi scuso per l'assenza ma davvero oltre al fatto dei vari impegni, il lavoro eccetera eccetera si è messo anche il caldo e davvero non si respira mi trovate diciamo in una location insolita perché non sono nella mia stanza perché è un forno davvero ma sono in cucina con il condizionatore acceso, bella fresca infatti mi vedete anche leggermente truccata perché questo è il mio trucco estivo perché se voglio mettermi più di quello che ho, cioè un po' di mascara e rossetto mi sciolgo completamente le sopraccia, fortunatamente ho trovato il prodotto della vita utilizzo quello pomad di Anastate Beverly Hills come voi sapete la tonalità è ebony e vi assicuro con 40 gradi non si sciolgono le sopraccia sono andate anche al mare quindi è davvero un prodotto top ma vediamo al succo di questo video qualche settimana fa sono stata contattata dal sito Semidress con cui già ho collaborato precedentemente e mi hanno offerto un giveaway per voi innanzitutto vi volevo ringraziare perché sono arrivata alle 5.000 iscrizioni e non me l'aspettavo proprio sono rimasta stupita perché comunque non sto caricando video con la stessa frequenza di un tempo eppure ho raggiunto diciamo 5.000 iscritti che per me davvero sono tantissimi e vi ringrazio davvero con tutto il cuore un mega bacio a tutti voi e cosa allora arriviamo al dunque al giveaway di Semidress dovevo fare sto video settimane fa poi per paura che magari questa cosa che mi hanno offerto per voi a un termine, a una scadenza mi sono precipitata diciamo a girare questo video infatti l'inquadratura è alquanto oscena però ho detto meglio che registro questo video il più presto possibile così le ragazze possono partecipare le regole sono davvero semplicissime dovete iscrivervi al sito di Semidress trovate nell'info box il link al sito dovete mettere un like sulla loro pagina facebook che trovate giù nell'info box dovete essere iscritti ovviamente al mio canale e nei commenti, il vostro commento praticamente dovete inserire l'email che voi utilizzate per la registrazione sul sito Semidress la vincitrice sarà estratta con random.org quindi sarà un'estrazione del tutto casuale e la cosa importante è l'email che voi andate ad utilizzare deve essere l'email che utilizzate per la registrazione sul loro sito se non volete utilizzare la vostra email perché magari c'è il vostro nome e cognome non so potete tranquillamente crearne non sono nuda, ho la canotta perché questa è nuda, no? ho la canotta potete creare tranquillamente un'altra email per partecipare a questo giveaway che ha la durata di due settimane in sovraimpressione vi scriverò la data di scadenza di questo giveaway e loro non mi hanno dato un limite di commenti quindi voi potete commentare quanto più volete così avete più possibilità di vincere questa gift card mi è sembrato un giveaway interessante perché comunque non siete costrette magari a vincere quel solo prodotto avete un budget di 25 dollari che ovviamente sono da inserire anche le spese di spedizione proprio come la gift card che hanno dato a me dovete inserire nell'interno di questi 25 dollari dovete far uscire diciamo anche le spese di spedizione che costano pochi dollari però potete scegliere tutto oddio scusate raga perché non vi dico dove ho messo l'iPhone potete scegliere davvero di tutto dagli accessori all'abbigliamento al make up i siti cinesi questi qui semi dress trend gal chi più ne ha più ne metta hanno sempre tantissime cose accessori per capelli scarpe borse davvero di tutto i prezzi sono davvero super super convenienti anche costumi robe di questo tipo pennelli davvero di tutto quindi l'ho trovato davvero un'ottima idea e mi ha fatto piacere diciamo darvi questa possibilità così potete scegliere quello che più vi piace e nulla trovate tutte le regole comunque scritte bene giù nell'infobox quando farà meno caldo raga vi giuro che vi registrerò il video acquisti saldosi non ne ho fatti tantissimi però vi volevo far vedere cosa ho comprato oppure male che vada mi metto una foto su instagram o facebook trovate i miei contatti giù nell'infobox così potete stare sempre aggiornate su quello che faccio e niente lo so che me lo chiederete il rossetto che indosso è Taz di Gian Battista Valli di MAC l'ho comprato quando sono andata a Riccione e lo adoro follemente bellissimo e nulla io vi bacio fortissimo vi do un forte in bocca al lupo vi ringrazio tantissimo per le 5.000 iscrizioni davvero tanto e inoltre prima di chiudere volevo farvi vedere questi prodotti per capelli che mi sono stati inviati gentilmente dall'azienda Mazzuri ma potete trovare sul sito pax.co.uk costano davvero una miseria costano tipo 4-5 sterline per vi dico subito 355 ml di prodotto questo qui praticamente è una crema o un balsamo non è non tanto è un balsamo perché non serve risciacquare è una crema per i i vostri capelli al burro di karité naturale mi hanno chiesto su facebook di mettere l'inci devo farvi le foto e vi metterò l'inci ma non si legge un cacchio di nulla comunque è molto molto buono sono tutti diciamo estratti naturali eccomi qua e mi sto trovando divinamente con questo prodotto fa dei capelli morbidissimi mi hanno mandato anche il loro tipo gel crema modellante per capelli che è stupendo ha un odore paradisiaco ovviamente ve ne parlerò meglio e nulla ci tenevo a farvelo vedere perché magari se vi serve qualche prodotto riparatore per i capelli perché con questo caldo con il mare si sfibrano si scambiano si seccano io vi consiglio questi prodotti qui perché costano pochissimo e sono stupendi c'è anche il loro come si dice burro corpo no burro corpo burro di karité puro per i capelli che va applicato sui capelli umidi quello che vi ho mostrato nei prodotti finiti che è davvero favoloso e pure costa pochissimo quindi vi consiglio di visitare il sito pax.co.uk che vi lascio sempre giù nell'info box così per poter avere dei capelli belli morbidi lucenti profumosi io davvero sto adorando questi prodotti qua e nulla io vi bacio tutte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ragazze ciao ciao